Oggi parliamo di un'eccellenza marchigiana che tutti noi conosciamo, che è l'offida pecorino di OCG e avremo poi successivamente tre vini in degustazione. Quando si parla di vino è importante il vitigno, il territorio eccetera eccetera, ma io amo anche accennare qualcosa a quello che è l'aspetto storico culturale di quello che andiamo a mettere in bocca perché dietro ogni bottiglia c'è sempre una storia legata spesso a personaggi e a territorio. Pecorino vitigno italico e piceno, è un vitigno autottono da sempre presente nel nostro territorio e la cosa interessante è che riguarda un bel pezzo del centro Italia, la parte sull'Adriatico, ovvero tutte le marche, tutto l'Abruzzo e una piccola parte del Lazio. Comunque negli ultimi anni dopo la sua riscoperta ha creato diverse polemiche sull'origine, è un vitigno marchigiano, è un vitigno abruzzese, in realtà ci sono dei documenti che parlano di questo vitigno che vengono fatti risalire alla fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo dove già si parla di questo vitigno. È normale che poi noi lo abbiamo riscoperto attraverso quei personaggi che poi vedremo, gli abruzzesi che lo avevano praticamente abbandonato, anche loro hanno capito col tempo le potenzialità di questo vitigno. Poi come sempre succede, ce l'abbiamo riscoperto noi, l'abbiamo inventato noi, è autottono dell'Abruzzo, è autottono delle Marche, in realtà è autottono del Piceno, Piceno inteso come un territorio che va da Senigallia fino a Pescara, quindi questo territorio è anticamente delineato già come provincia romana. È stato perso, è stato ritrovato, i fattori che hanno costretto i produttori ad abbandonare questo vitigno sono legati a quella che è stata l'evoluzione della società, l'evoluzione dell'economia e il grande sviluppo turistico che c'è stato negli anni 60 e 70 sulla costa. Eccolo qua. Questo è un vitigno molto particolare, di difficile allevamento, predilige un ambiente fresco, no? E quindi poterne avere la giusta quantità per soddisfare esigenze nuove legate al mercato del turismo era piuttosto complicato. Oltretutto un vitigno che va approcciato con una certa filosofia, con un certo entusiasmo, con la voglia di comprenderlo, cosa che negli anni 60 e 70 era difficile da trovare a livello nazionale. Allora molti produttori, che scelta hanno fatto? Si sono orientati sull'allevamento di vitigni di più facile gestione, che avessero un carattere organolettico, no? Più facilmente apprezzabile dalla stragrande maggioranza del pubblico. E infatti, anche quando uscì la prima denominazione d'origine legata al falerio, il pecorino era già presente, era presente pure il veddicchio oltre al trebbiano, no? Però poi ecco, torna quel discorso lì. Rifacciamo il disciplinare perché trovare pecorino è estremamente difficile, no? Quindi se il mercato del vino, la produzione di vitivinicola si è spostata principalmente, no? Verso i trebbiani di facile beva, falerio che ha avuto dei momenti di successo straordinario, oggi purtroppo è caduto un po' in disgrazia anche se ci sono dei produttori che lo stanno riscoprendo. Questo è un documento importante, legato sempre al territorio dove poi è stato riscoperto il pecorino. Il Bacci, nel 1596, che cosa dice? Inoltre, dalle colline esposte al sole, presso le tenne dell'acqua santa, quindi siamo qui vicino, provengono uve splendide che gli industrie coloni coltivano, badando non tanto alla quantità quanto alla loro perfezione. Perché? I vitigni allevati anche all'interno erano tanti e diversi, però il pecorino aveva sempre un ruolo dominante, era considerato il vino dell'eccellenza, era considerato il vino della nobiltà. Qui abbiamo un documento, no? Raccolta ampelografica di Forlì nel 1875, dove il conte Adriano Gallo, il conte Adriano Gallo è un personaggio molto interessante perché è stato un benefattore per tutta quella che è stata la salaria, no? Dopo Ascoli, Acqua Santa, Arquata e quant'altro, no? E lui che qual era il vino che lui prediligeva? Era appunto il pecorino, uva di montagna favorita dal signor conte Adriano. Questi sono i tipi di vino che venivano, i tipi di vitigni che venivano principalmente utilizzati, no? Nella quantità, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui la storia di questo vitigno è lunga, molto lunga. Dove è stato riscoperto? È stato riscoperto da Arquata del Tronto, questa è una vecchia vigna, no? Famose filonate, dove il pecorino veniva allevato. Poi per anni un po' si è persa questa abitudine, qualcuno ha avuto il coraggio di riacquistare delle vigne e di riprendere la produzione di pecorino proprio in loco, lì. Ci sono due produttori adesso che fanno pecorino ad Arquata del Tronto e questa è una delle vigne più vecchie. Un'altra grande polemica è quella legata al nome del vitigno, Lupe Curie. Qualcuno dice legato al discorso della transumanza, no? Quindi dall'interno che si andava nel Lazio si tornava. Qualcun altro invece sostiene la tesi che sempre queste pecore erano ghiotte di queste uve, quindi andavano a mangiare queste uve. Ma in realtà i documenti ci dicono che il pecorino veniva allevato in vigna. Adesso il concetto di vigna è un po' cambiato. La prima la vigna era uno spazio dedicato solo ed esclusivamente all'allevamento del vino e oltretutto aveva una recinzione fatta con dei muretti a secco. Questo perché? Per impedire appunto agli animali di andare in mezzo alla vigna e mangiare l'uva. L'altra versione qual è? Che secondo me sotto certi aspetti è anche la più, come posso dire, nemmeno affidabile, la più legata al territorio. Perché questa è un'uva che ha un'acidità straordinaria, da dei vini di grande intensità, di grande persistenza. Nel momento in cui lo mettiamo in bocca l'ingresso è potente, immediato, quasi che pizzica. E siccome questa è zona di formaggi pecorini molto molto interessanti, oltretutto questi formaggi che venivano lavorati anche con delle erbe aromatiche per andarne ad aumentare appunto la struttura organolettica e la piccantezza, e sembra che il nome pecorino dipenda proprio da questo connubio formaggio piccante, vino strutturato e complesso, no? Di grande stimolo gustativo. Poi qual è la verità? Non si sa. Fatto sta che pecorino c'è, ce lo teniamo e poi dopo ce lo beviamo pure. Questa è una foto bellissima, purtroppo questa città, lo sappiamo benissimo, non esiste più e non c'è verso che possa essere ricostruita. Questa è un'immagine del 2016, ci tengo a farla vedere. Bello? Bello è la riscoperta che c'è stata, no? Questo vidigno è abbandonato, qualche vigna come abbiamo detto prima da Arquata del Tronto, ma questo signore è qua, grande maestro sommelier, chi è che non lo conosce penso tutti, no? Grande maestro Totoro Bucari, io lo dico sempre, sono stato il suo autista per diversi anni e questa è una cosa che mi ha sempre riempito, eh lo dovevo scorrazzare, i corsi a fermo, i corsi alla vinea, i corsi nascoli, dove era? Lo andavo a prendere, ci si faceva queste chiacchierate lungo la strada, una volta usai un termine per descrivere un vino diverso da quello che lui utilizzava, ma guardate, un momento mi sbrana, da quella volta in poi sono stato sempre zitto. Questo signore qua si ritrovò per caso, no? Dopo un corso che fece, non la località qui del maceratese, non mi sfugge pure il nome, perse il treno, andò a dormire da un oste, che c'era un'osteria con qualche camera, e il proprietario dell'osteria gli offrì questo vino, gli disse maestro assaggia questo vino, allora Totoro disse ma che vino è? Dice questo è l'upecorri, questo è l'upecorri e lui era diversi anni che non aveva l'opportunità di assaggiare questo vino, lo assaggiò e rimase molto colpito, no? Riteneva questo vino particolarmente interessante e degno di nota, naturalmente fece i suoi studi, fece le sue scoperte e decise che era il caso di riproporre questo vino, no? Sul territorio. Da solo non lo poteva fare e qui abbiamo una pietra miliare del pecorino, giusto ingegnere? Grande maestro, cavaliere Gocci Grifoni, che ascoltando i consigli di Teodoro Bugari decise di iniziare una sperimentazione su quest'uva, quest'uva che fu riscoperta anche a Darquata del Tronto, andarono lì, presero le barbatelle, le riportarono, ma il percorso non fu facile perché oltretutto avevano bisogno anche di altri consulenti, no? C'è uno bisogno di enologi, di tecnico agrario e soprattutto di un grandissimo chimico. Il professor Leonardo Seghetti, un integralista del vino, un personaggio non so chi lo conosce di voi, comunque è un personaggio straordinario, quando ci pare ci può passare veramente le ore perché c'è una cultura veramente incredibile, insieme hanno sviluppato questo progetto, questo progetto che ha portato a che cosa? Ha portato a reimpiantare, ma qui siamo sul finire degli anni Ottanta, inizio anni Novanta e il mercato del vino stava cambiando, no? Molti produttori iniziavano ad avere come punto di riferimento non tanto i vitigni autotoni che poi fortunatamente abbiamo riscoperto, ma i grandi vitigni internazionali perché si vogliono rimettere sul mercato con gli Chardonnay, con i Sauvignon, con i Merlot, con i Capernet Sauvignon, eccetera, 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 eccetera. Però questa zona vocata, vocatissima, ma possiamo metterci in concorrenza con produttori di vino che hanno come punto di riferimento questi vitigni da centinaia e centinaia di anni, tutto diventa più complicato, tutto quanto diventa più difficile, no? E Cocci Grifoni ci ha avuto il coraggio, il coraggio di fare un tentativo e di vinificare in purezza. Per moltissime persone ha cattiva idea, ma che ci fa a pecorire? Sta lo Chardonnay va tanto bene, lo mettiamo nel legno, le cose facciamo, diciamo, però questo ci estranava dal contesto, ci estranava dal territorio e questo inevitabilmente ha creato dei problemi. Trovò una vigna e qui il problema era, perché sappiamo benissimo che un grande vino è sempre il risultato di un ambiente pedoclimatico perfetto, perché altrimenti il vino buono non viene, abbiamo bisogno di terreno, abbiamo bisogno di esposizione, di altitudine e di clima. E lui non sapeva all'inizio come gestire, allora fece 20 viti a nord, esposte a nord e 20 viti esposte a sud e per diversi anni sviluppò questi processi di microvinificazione per capire quali hanno le potenzialità, se conveniva un maggiore o un minore rapporto eliotermico, un ambiente più fresco o un ambiente più caldo. E alla fine il risultato è stato chiaro, perché si capì che il vitigno è un vitigno precoce che è nato, si è ambientato in un ambiente fresco. Quando parliamo dell'interno del Piceno, quando parliamo di Arqua del Tronto, non è che parliamo di un ambiente particolarmente caldo, o meglio, d'estate c'è la fase calda, però normalmente sono ambienti molto più freschi rispetto alle colline che ridanno sul mare. siamo nel 1987, l'ultima fase, la riscoperta fase 6, siamo nel 1990 e esce il primo pecorino in purezza. Questo primo pecorino in purezza era un vino da tavola, non aveva nessuna denominazione. no? Oltretutto questo è un vitigno molto particolare, con acidità importante ed era difficile da domare. Poi vedremo i corsi e i ricorsi di questa storia qua. A questo punto anche l'Assam di Ancona si è interessata a questo vitigno, erano in periodi delle grandi sperimentazioni, furono chiamate delle aziende e furono messi dei filari di pecorino, ma anche di Chardonnay, di Sauvignon, di Cabernet, di Merlot, di Pinot, di Syrah, un po' di tutto. E alla fine di questa sperimentazione che cosa si capì? Che questo era territorio unico, straordinario per la produzione di questo vitigno del pecorino. Mentre gli altri davano buoni risultati, con il pecorino si poteva tranquillamente, con gli anni naturalmente, arrivare all'eccellenza, anche perché col vino tutto diventa più difficile, devi aspettare un anno prima di capire il risultato che hai ottenuto. Quindi c'è un impegno notevole anche a livello economico. Nel 2001, finalmente, anche qui tra tantissime polemiche, arriva la prima doc per il pecorino. Polemiche legate a che cosa? Qui il territorio è piuttosto ampio, abbiamo questi 13 comuni famosi della provincia di Ascoli Viceno, ci sono dei comuni molto più importanti, che hanno produzione vitivinicole importanti e allora all'inizio ci fu questa grande polemica, poi ulteriormente sviluppata quando fu fatta la DOCG, tra il comune di Offida e il comune di Ripatranzone. Lo chiamiamo Offida di OCG? Lo chiamiamo Ripatranzone di OCG? No? Poi, dopo lì non so per quale motivo, qualcuno lo sa io o no, naturalmente il peso politico di alcune città, dica ingegnere. Perché Offida è il nome più corto, quindi abbiamo risolto un problema e no, grazie. Lei c'era quando ci stavano queste discussioni, quindi lo sa meglio di me, noi sentivamo tutto quanto per sentito dire, e nà questo Fida DOC, no? Naturalmente qui siamo agli inizi degli anni 2000, ci fu subito una grande diffusione, no? Molti produttori che oggi ancora puntano forte sul pecorino, all'inizio iniziarono delle produzioni veramente, veramente importanti, no? E questo ci ha fatto abbandonare quei famosi vitigni internazionali, qualcuno c'è là, ci fa dei blend e quant'altro. Nel 2011, finalmente, l'Offida di OCG, denominazione d'origine controllata e garantita. Pecorino, Offida Pecorino, 100% Pecorino, Offida Passerina, quindi vitigno Passerina, e però qualche rimasuglio di stuve internazionali era rimasto, perché uscì anche l'Offida Rosso, no? Sto Offida Rosso che presupponeva, se non sbaglio, circa un 30% di vitigni internazionali, il resto invece è un altro vitigno straordinario nostro, autocodono, che è il Monte Pulciano, che però oggi non avremo modo di degustare. Successivamente, per fortuna, il disciplinare è stato cambiato e il Monte Pulciano ha preso il sopravvento su questi famosi vitigni internazionali e oggi è fortemente caratterizzante di questa Offida. Questi sono i comuni della provincia di Ascoli Piceno, più due comuni di Fermo, la provincia di Fermo, Pedaso e Campofilone. Solo qui, questo territorio vocato, è possibile produrre l'Offida Pecorino di OCG. Ma il pecorino non finisce lì, perché giustamente gli altri comuni del Fermano che hanno detto perché noi non lo possiamo fare questo pecorino? perché questa è la zona storica, voi non ci avete, siete arrivati dopo con il pecorino, però possiamo rivedere il disciplinare di uno dei vini, ripeto, più famosi del nostro territorio che è il Falerio, no? E facciamo il Falerio pecorino. Io adesso dovrei iniziare una cagnara numero uno, ma è numero uno veramente, e non è detto che non inizio subito con questa cosa qua, perché nel momento in cui tu li metti sul mercato Offida Pecorino di OCG, poi fai il Falerio pecorino, che sono due cose completamente diverse, d'accordo? Nel primo caso abbiamo un disciplinare di produzione che è estremamente rigido, no? Quello proprio della DOCG. Nell'altro caso hai un disciplinare di produzione, quindi l'insieme delle regole che il produttore deve rispettare per avere questo benedetto marchio di qualità, che è rigido, ma non è così rigido. Il consumatore, nel momento in cui si approccia a una bottiglia del nostro territorio, quando legge Falerio pecorino, legge pecorino, è uguale, ma non è uguale. Non è uguale. Non può essere uguale. No? Quindi questo crea ulteriore confusione. No? Spesso e volentieri. Questo non significa che non ci siano dei produttori che sono il Fermano, che facciano dei faleri pecorini molto buoni. Però un conto è questo territorio, un conto sono i nostri produttori, un conto è la DOCG e un conto invece è il Falerio pecorino. Anche per chi viene da fuori da questo territorio, va lì, no? Poi c'è il pecorino, Falerio pecorino c'è un prezzo. Eh, l'offida di O.C.G. pecorino c'è un altro, ma non è uguale. Eh, no. Già abbiamo un problema di rese per ettare che è completamente diverso. C'abbiamo un territorio che è completamente diverso. Un disciplinare di produzione che è molto più rigido. No? Però, siccome noi bisognava accontentare un po' tutti, questo è quello che troviamo sul mercato e tutto questo è andato a discapito anche del Falerio pecorino. Ecco, questo è il Falerio pecorino. Una zona sicuramente molto, molto, molto più ampia. No? Con diversità di terreni, di esposizioni e quant'altro. ed è la DOC dal 2011, quando l'offida pecorino è diventato di O.C.G. Questo invece è il Falerio dei Colli Ascolani, nelle due tipologie. Questo è quello classico, Trebbiano, Toscano, Passerina e pecorino e più c'è il Falerio pecorino. Che inevitabilmente qualche piccola difficoltà, qualche piccolo problema, lo crea.